Rimini è anche le parole che ha detto il Vescovo e che abbiamo anche sottolineato in questi mesi, Rimini non è una città perfetta ma è una città libera, è una città aperta, viviamo in un tempo in cui è più facile essere attraversati dal livore, dal rancore, dal guardare l'altro come nemico, come qualcuno da distruggere e noi andiamo un po' controcorrente, abbiamo bisogno di piazze e di relazioni, per questo Rimini sta cambiando, il teatro è una piazza, la piazza Malateste che diventerà il Museo Fellini sarà una piazza, la piazza sull'acqua che solo ieri sera ospitava 4-5 mila persone a vedere a Marcord, è un luogo, la piazza dove le persone si possono incontrare, costruiscono relazioni, connessioni. Rimini è una città che sta costruendo piazze attorno alla sua storia, alla sua identità, tutti i luoghi hanno un'identità, per questo anche una piccola rotonda può assumere un grande gesto, è un grande gesto, ha un grande significato, questa rotonda è dedicata a Don Giussani, sono 40 anni di una storia straordinaria, quella del meeting che fa incontrare i popoli, con percorsi diversi, religiosi, con percorsi difficili li fa incontrare e questo è un simbolo della città che oggi si ritrova in uno svincolo che non è più un incrocio, ma è un luogo dove si ritrova un pezzo della storia riminese. Qui in questo quartiere è nato il meeting, in questi padiglioni azzurri della fiera, è una storia che poteva come tante altre scomparire e invece si è rilanciata, oggi è nella nuova fiera, ma siamo qui in questo luogo, in questa rotonda, per dare un senso ad un luogo che ha fatto crescere la città facendo e ospitando il meeting.